A guardarlo sembra proprio Wall-E, il robottino della Disney che tra le macerie di un mondo ormai disabitato continua a ripulire il pianeta. Questo di robot è sicuramente meno intelligente, ma fa un lavoro importante. Qui lo vediamo mentre, telecomandato da un tecnico, entra all'interno del duomo terremotato di Mirandola. Le telecamere rimandano le immagini all'esterno e allo stesso tempo raccolgono dati sulle condizioni della struttura, mentre un piccolo braccio meccanico recupera gli oggetti di valore rimasti sotto le macerie. Insomma, è come se un solo operaio svolcesse contemporaneamente più lavori e il tutto in sicurezza, senza mettere a rischio vite umane. Non a caso questo robot è stato realizzato dopo il terremoto in Umbria del 1997, quando il crollo della Basilica Superiore di Assisi uccise quattro tecnici che stavano facendo un rilievo dopo la prima scossa di terremoto. Sull'onda di questo abbiamo acquistato questi macchinari che ci permettono di entrare in sicurezza e fare i rilievi dei danni causati dal terremoto. In questi giorni il robot ha lavorato nelle chiese danneggiate della diocesi di Carpi, in particolare nel Duomo e nella cattedrale di Mirandola, muovendosi tra le macerie a fatto analisi, rilievi e raccolto dati che saranno fondamentali per gli interventi di restauro.